buonasera a tutte e a tutti vi diamo il benvenuto in questa nostra serata dove speriamo di potervi coccolare accompagnare nell'ascolto e nella scoperta delle filastrocche delle poesie di Gianni Rodari si può viaggiare in treno in automobile e in macchina da scrivere perché no io ci ho provato semplicemente battendo un tasto sbagliato sono arrivato in Lamponia un paese dolcissimo che sa di marmellate di sciroppo e somiglia un pochino ma non troppo alla Lapponia propriamente detta che se ne sta a rabbrividire lassù alle soglie del polo il popolo dei Lamponi confina con altri popoli buoni e tranquilli fragole mirtilli lucciole e grilli spesso giungono in visita dagli stati vicini farfalle api bambini con il cappellino bianco che presto sarà nero di more o paese felice scoperto per errore l'amponia del mio cuore speranza se io avessi una botteguccia fatta ad una sola stanza vorrei mettere a vendere sai cosa la speranza speranza buon mercato griderei per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basti per sei e alla povera gente che non ha da campare darei tutta la mia speranza senza farla pagare